La storia della battaglia di Watling Street è un racconto di resistenza, coraggio e tattica militare. La ribellione di Budicca, regina degli Iceni, contro l'impero romano è uno degli episodi più memorabili della storia britannica. Nel I secolo d.C. l'impero romano, sotto l'imperatore Claudio, aveva deciso di invadere la Britannia. Sebbene le legioni romane avessero già fatto una breve incursione in Britannia sotto Cesare, questa volta l'intento era di stabilire un dominio duraturo. La Britannia era un mosaico di tribù in lotta tra loro e i romani sfruttarono queste divisioni per stabilire il loro controllo. Ad esempio, mentre la tribù degli Iceni era inizialmente alleata con i romani, altre tribù come i Catuvellauni resistettero strenuamente. Tuttavia la situazione cambiò drasticamente con la morte del re degli Iceni, Prasutagus. Prasutago, re degli Iceni, era un alleato dei romani. Alla sua morte lasciò metà del suo regno a sua moglie Budicca e l'altra metà all'imperatore romano, sperando che ciò garantisse la protezione della sua famiglia e del suo popolo. Ma i romani, in particolare sotto la guida del governatore Paolino, non riconobbero l'autorità di Budicca. In un atto di estrema crudeltà, i soldati romani arrestarono Budicca e violentarono le sue figlie. Questo atto orribile fu l'innesco di una ribellione su larga scala. Budicca, con la sua determinazione e carisma, riuscì a unire diverse tribù britanniche e lanciò una serie di attacchi contro le città romane. La sua strategia era chiara, infliggere il massimo danno possibile e scacciare i romani dalla Britannia. Londinium, la principale città romana, fu completamente distrutta, così come altre città. La violenza e la ferocia di questi attacchi furono senza precedenti. Le principali fonti storiche che raccontano della ribellione di Budicca e della battaglia di Watling Street sono gli annales di Tacito e la storia romana di Cassio Dione. Queste fonti forniscono dettagliate descrizioni degli eventi, ma la mancanza di prove archeologiche dirette rende difficile stabilire con precisione alcuni dettagli, come il luogo esatto dello scontro. Gli Iceni e altre tribù britanniche erano scontenti dell'oppressione romana, delle tasse elevate e dell'assimilazione forzata alla cultura romana. Inoltre, molti britannici erano stati ridotti in schiavitù o costretti a lavorare per i romani. Sotto la guida di Budicca, gli Iceni, insieme ad altre tribù come i Trinovanti, si ribellarono contro i romani. La rivolta iniziò con l'attacco e la distruzione di Camulodunum, l'odierna Colchester, un importante centro romano. La città fu saccheggiata, il Tempio di Claudio fu distrutto e molti romani e collaborazionisti britanni furono uccisi. Budicca era determinata a vendicare le ingiustizie subite da lei e dal suo popolo. Durante la rivolta, le forze di Budicca erano note per la loro ferocia. Alondinium, l'odierna Londra, e Verulamium, l'odierna St. Albans, città che furono attaccate e distrutte dai ribelli. Si dice che siano state uccise circa 80.000 persone, molte delle quali erano civili. Le donne romane catturate venivano spesso torturate e uccise in modi brutali. Alcune venivano impalate o sottoposte a rituali druidici. Dopo aver attaccato e distrutto Camulodunum, una città romana chiave in Britannia, le forze di Budicca si diressero verso Londinium, l'attuale Londra. La scelta di Londinium come obiettivo era strategica, in quanto era un importante centro romano e un simbolo del potere romano nella regione. Inoltre, la città era gravemente sotto difesa poiché gran parte delle truppe romane erano impegnate in altre parti dell'isola. Quando i ribelli britannici raggiunsero Londinium, la città fu posta sotto assedio. La guarnigione romana era inadeguata per difendere la città contro una forza così vasta e determinata. Le mura di Londinium non erano sufficienti a tenere fuori i ribelli e i romani erano costretti a ritirarsi verso il Tempio di Claudio, dove cercarono di resistere. Londinium subì gravi danni durante l'assedio. Le forze di Budicca saccheggiarono la città, bruciarono edifici e uccisero molti dei cittadini romani e dei loro alleati britannici. Le donne romane catturate furono sottoposte a torture e uccise in modo brutale, come parte dell'escalation della violenza perpetrata dai ribelli. La battaglia di Watling Street non fu solo un confronto tra due eserciti, ma anche tra due leader determinati e strategici, Gaio Svetonio Paolino, il legato romano, e Budicca, la regina ribelle degli Iceni. La battaglia si svolse in una stretta vallata lungo la strada di Watling, dove Svetonio Paolino schierò strategicamente le sue truppe, sfruttando il terreno a suo vantaggio. Paolino era un comandante esperto e aveva trascorso anni a combattere in Britannia. Conosceva bene le tattiche dei britanni e sapeva che nonostante la loro superiorità numerica, mancavano della disciplina e dell'organizzazione delle legioni romane. La sua principale preoccupazione era di evitare uno scontro in campo aperto, dove il numero avrebbe potuto fare la differenza. La scelta della strada Watling come campo di battaglia fu strategica. La posizione all'interno di una stretta vallata, con colline e boschi ai lati, impediva ai britanni di sfruttare la loro superiorità numerica e li costringeva a un attacco frontale, dove la disciplina e la formazione romana avrebbero avuto il sopravvento. Guidata dalla vendetta per le ingiustizie subite da lei e dal suo popolo per mano dei romani, Budicca aveva radunato un vasto esercito di diverse tribù britanniche. La sua strategia era stata finora quella di attaccare e distruggere i centri romani, sfruttando la sorpresa e la voce a dei suoi guerrieri. Avvicinandosi alla battaglia, Budicca era sicura della vittoria grazie alla sua schiacciante superiorità numerica e sperava di porre fine una volta per tutte al dominio romano in Britannia. La scelta di Paolino di combattere lungo la strada Watling fu astuta. La strada, circondata da terreni accidentati, offriva protezione contro possibili manovre di accerchiamento dei britanni. Inoltre, la formazione a cuneo delle legioni romane avrebbe potuto massimizzare l'efficacia delle loro armi e tattiche in uno spazio ristretto, rendendo difficile per i britanni sfondare le loro linee. I romani guidati da Svetonio Paolino contavano tra 6 e 7 mila legionari provenienti dalla quattordicesima legio Gemina e dalla ventesima legio Valeria Vitrix. Tra 4 e 5 mila combattenti ausiliari, principalmente germanici, specializzati come arcieri e fanteria leggera e infine circa mille unità di cavalleria ausiliari e divisi in due ali. I britanni contavano su circa 50 mila combattenti di fanteria e diversi carri da combattimento. Il numero preciso di questi non è a oggi conosciuto. Inoltre, all'uscita del campo, dove si sarebbe eseguito lo scontro, erano stati disposti i carri usati in accompagnamento alle forze britanne. Lo scopo probabilmente era quello di far assistere ai familiari e agli attendenti dei combattenti lo spettacolo della disfatta dell'esercito romano. Questa mossa in realtà sarà fortemente controproducente per i britanni stessi. Nonostante la netta sproporzione numerica, i romani avevano il vantaggio dell'armamentario, dell'equipaggiamento e soprattutto della disciplina e dell'esperienza. L'armata britannica, al contrario, era composta principalmente da giovani guerrieri con scarsa esperienza e armatura inadeguata. Inoltre, erano accompagnati da un grande seguito di famiglie, che potrebbe averli rallentati. Le fonti storiche, in particolare Tacito e Cassio Dione, forniscono stime diverse sul numero di guerrieri britannici. Mentre Tacito stima circa 120 mila guerrieri, Cassio Dione suggerisce un numero molto più alto, 230 mila guerrieri. Tuttavia, è probabile che il numero effettivo di guerrieri britannici fosse intorno ai 50 mila. La discrepanza nelle stime potrebbe derivare da esagerazioni nelle fonti o da interpretazioni errate dei dati disponibili. La ragione per cui alcuni sostengono che i britanni fossero in realtà più di 200 mila potrebbe derivare dalla tendenza delle fonti storiche a esagerare per enfatizzare la grandezza della vittoria romana. Inoltre, potrebbe esserci stata una confusione tra il numero totale di ribelli, inclusi non combattenti come donne e bambini, e il numero effettivo di guerrieri. In conclusione, mentre le fonti storiche forniscono stime diverse, è probabile che il numero effettivo di guerrieri britannici fosse molto più basso delle stime più alte. La battaglia della strada Watling rimane comunque un esempio impressionante della capacità tattica e strategica dei romani di fronte a un nemico numericamente superiore. Paolino posizionò le sue truppe in una formazione a cuneo o a dente di sega. Questo schieramento consentiva alle legioni romane di concentrare la loro potenza di fuoco e di creare una barriera efficace contro le cariche britanniche. Le legioni romane erano schierate al centro della formazione, mentre le truppe ausiliarie e la cavalleria romana furono celate dietro una foresta al fianco destro dell'esercito. Budicca schierò le sue forze britanniche in una massa disordinata e in un unico schieramento. Questo approccio meno organizzato aveva lo svantaggio di non sfruttare la superiorità numerica britannica e la loro maggiore capacità di manovra. Inoltre, le tribù britanniche avevano armi più grandi che richiedevano spazio per essere maneggiate efficacemente, il che poteva costituire uno svantaggio nei combattimenti ravvicinati. Uno degli elementi chiave della strategia di Paolino fu nascondere parte della sua cavalleria dietro la foresta vicino al campo di battaglia. Questa mossa astuta consentì ai romani di sfruttare la sorpresa e l'effetto improvviso durante la battaglia stessa. Quando l'azione iniziò, la cavalleria romana emerse dalla foresta, caricando i britanni da un lato e colpendo le loro linee. Questa manovra sorprendente ebbe un impatto significativo sulla battaglia. I romani avevano l'armamentario superiore per combattere in combattimenti ravvicinati. Le spade gladi e i pugnali romani erano altamente efficaci nelle mani dei legionari ben addestrati. La loro formazione compatta a cuneo consentiva loro di resistere alle cariche britanniche e di concentrare il fuoco su aree specifiche del campo di battaglia. Inoltre, grazie anche alla disposizione, i romani con armi più leggere e piccole potevano manovrarle meglio in spazi ristretti, cosa che non era possibile per i britanni in quanto dotati di armi più pesanti e ingombranti. I britanni, con armi più grandi come lance e spade più lunghe, avevano bisogno di spazio per manovrare e infliggere danni efficaci. Lo schieramento disordinato e l'area ristretta della strada Wattling resero difficile per loro sfruttare appieno le loro armi. Inoltre, la sorpresa della carica romana dalla foresta indebolì ulteriormente le loro linee. Io, Boudicca, regina degli Iceni, prometto a Lugus e sul mio caro marito, che strapperò personalmente il cuore del generale romano e mi berrò il suo sangue. Il mio cuore brucia di una furia incontenibile. I romani, invasori arroganti e crudeli, hanno devastato la mia terra, oltraggiato la mia famiglia. Ma oggi, oggi il loro sangue macchierà la nostra terra liberata. La mia strategia è chiara come il cielo prima della tempesta. Attaccheremo con la ferocia dei lupi affamati. Svetonio Paolino si rivolse alle sue truppe, incoraggiandole a non farsi intimorire dal gran numero di nemici e a ricordare la loro forza e il loro valore. Incitò i romani a lanciare giavellotti e a stringere i ranghi, sottolineando che la vittoria avrebbe portato alla sottomissione dell'intera provincia ribelle. Boudicca, a differenza di Paolino, non seguì alcuna tattica precisa. Dando per scontata la superiorità numerica e la furia dei suoi guerrieri, ordinò loro di caricare nella stretta vallata. I famigerati carri da guerra britannici si fecero avanti per primi, sebbene non fossero progettati per sfondare i ranghi nemici, bensì per trasportare lanciatori di giavellotti. Sono Gaio Svetonio Paolino, generale romano, e guardo con disprezzo questa ribellione guidata da Boudicca, una regina barbara che osa opporsi alla grandezza di Roma. I suoi seguaci sono poco più che selvaggi, mossi da passioni irrazionali e privi di vera disciplina militare. Il loro furore non è nulla in confronto alla nostra superiorità tattica e tecnologica. I romani resistettero all'attacco dei carri britannici, che erano probabilmente in numero limitato e avevano difficoltà a manovrare nel campo di battaglia ristretto. I legionari mantenevano ranghi compatti, proteggendosi con scudi e corazze. I romani disponevano di arcieri ausiliari e di scorpioni, macchine da guerra maneggevoli che potevano lanciare dardi di ferro. Ogni legionario portava anche due giavellotti, Pila, che vennero scagliati sui ribelli non appena la distanza fu giudicata ottimale. Questo fu un momento cruciale in cui il bersagliamento romano inflisse gravi perdite ai britanni, frenando il loro impeto. Vedendo il cedimento britanno, Svetonio Paolino fece disporre i legionari in tre cunei e ordinò loro di caricare a testa bassa. Questa manovra colse completamente alla sprovvista i britanni, trasformando gli assalitori inassaliti. Le prime file dei ribelli cedettero, ma il loro numero e la ferocia permisero loro di assestarsi in una battaglia d'attrito contro i romani. La battaglia si trasformò in una mischia serrata, in cui il numero di ribelli si rivelò un'arma a doppio taglio. Le armi britanniche, lunghe e pesanti, avevano bisogno di spazio per essere usate in modo efficace e si dimostrarono incapaci di contrastare il gladio romano, una spada corta appositamente progettata per il combattimento ravvicinato. All'alba, la battaglia si protrasse per ore e la superiorità disciplinare romana consentì ai legionari di operare un ricambio continuo di uomini nelle prime file. Quando i britanni iniziarono a cedere terreno, Svetonio inviò la cavalleria ausiliaria per lanciare l'attacco finale. La ritirata dei britanni si sgretolò in una fuga disordinata, ma si verificò un ingorgo convulso presso i carri, dove erano ancora presenti le loro famiglie. Ciò permise ai romani di inseguire i guerrieri britannici e di avventarsi su di loro, causando pesanti perdite tra guerrieri e civili britannici. Questa epica battaglia segnò il crollo della rivolta di Budicca e il trionfo delle tattiche romane ben pianificate, della disciplina e dell'efficacia delle armi. Dopo la sconfitta nella battaglia di Watling Street, il destino di Budicca rimane avvolto nel mistero. Le fonti antiche non sono concordi sulle circostanze della sua morte. Secondo Tacito, Budicca si avvelenò per evitare di essere catturata dai romani. Cassio Dione, invece, suggerisce che morì per malattia poco dopo la battaglia. Indipendentemente dalle circostanze esatte, è chiaro che la sua morte segnò la fine della resistenza organizzata contro l'occupazione romana in quella regione della Britannia. La battaglia di Watling Street ebbe ripercussioni profonde e durature sulla Britannia e sul dominio romano sull'isola. La vittoria romana consolidò il loro controllo sulla Britannia. La rivolta di Budicca aveva rappresentato una delle più gravi minacce all'occupazione romana e la sua sconfitta rafforzò la posizione di Roma come potenza dominante nella regione. In risposta alla rivolta, i romani rafforzarono la loro presenza militare in Britannia e introdussero riforme amministrative per prevenire future insurrezioni. La Britannia fu divisa in province separate per facilitare un controllo più efficace e ridurre il potere dei leader tribali locali. La rivolta di Budicca e la sua sconfitta divennero leggendarie, sia tra i romani che tra i britanni. Mentre i romani la vedevano come un esempio della loro superiorità militare e della giustizia divina, per i britanni Budicca divenne un simbolo di resistenza e di orgoglio nazionale. La sua storia è stata tramandata attraverso le generazioni e continua a essere celebrata come un esempio di coraggio e determinazione contro un oppressore straniero. In conclusione, la battaglia di Wattling Street e il destino di Budicca segnarono un punto di svolta nella storia della Britannia romana. Mentre la dominazione romana fu rafforzata, la memoria di Budicca e della sua resistenza divenne un simbolo duraturo di orgoglio e resistenza per il popolo britannico. Grazie per averci seguito fino alla fine. Il tuo supporto è fondamentale per noi e non vediamo l'ora di condividere con te altri affascinanti viaggi nella storia.